A Franciacorte ci sono rifiuti sotto terre interrate, attorno ai confinanti e torno a torno. Alcuni terreni sono seminati addirittura. Ci sono poi queste colline? Ci sono queste colline che sono, non so tutto, ma comunque stanno pieni di rifiuti. E lì ci sono i vigneti? E ci sono i vigneti. Ecco, per quanto riguarda invece la Brebemi? La Brebemi è un'altra società grossa che loro fa lavori grossi con autostrati, edilizia civile e industriale, con consorsi grossi italiani. C'è di tutto, bisogna dire cosa non c'è in quella società, c'è tutti i rifiuti tossici e nocivi, sia i locali che vengono da fuori. Estero che vengono portati su Milano, su Milano, poi vengono portati sulla bassa Bresciano, su Bresce e altre zone, poi piano 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 piano. Hanno già raggiunto la falda acquifera? Io dico sì, 100-100.